Guidati dalla mano abile di Pietro Labate acquisiscono progressivamente il pieno controllo della parte sud di Reggio Calabria e in assenza di qualsiasi contrasto all'interno del loro territorio e badando bene a tenersi fuori dagli scontri che dilenarono altre cosche mafiose, consolidano la loro presa sulle attività economiche soggette alla loro influenza. Il GIP delinea così la forza del clan leadership criminale della zona sud di Reggio, passaggio che viene rimarcato nelle carte di Cassa Continua, l'operazione della DDA e dei Carabinieri che lo scorso venerdì ha colpito una costola della Cosca che fa riferimento a Pietro Toscano e Antonio Laurendi. La DDA ricostruisce passando in rassegna le inchieste Larice, Gebbione e seppur in parte Archiastrea fino alla recentissima Eliantus, strapotere che si conferma anche in Cassa Continua dove si ripetisce come Pietro Labate e i suoi compagni si propongono sia nella veste tradizionale di predoni, sia in quella più avanzata di imprenditori pienamente inseriti nel tessuto produttivo del loro territorio. Beninteso, la loro imprenditoria risente positivamente della condizione mafiosa e si avviale di ogni possibile strumento di intimidazione. Una Cosca che mantiene l'organizzazione gerarchica, il controllo capillare del territorio, la disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, l'imposizione di vestazioni di ogni tipo a commercianti, imprenditori, operatori economici, la repressione di comportamenti illeciti o illeciti che siano sgraditi al gruppo.